Ciao a tutti, oggi prepareremo l'insalata di orzo. Il tempo di preparazione della ricetta è di 45 minuti circa. Gli ingredienti sono orzo perlato, acqua, tonno, mozzarella, basilico, pomodori, sale, olio e pepe. Diamo il via alla ricetta. Prima di iniziare la ricetta noi abbiamo lavato l'orgio. Adesso mettiamo all'interno del boccale l'acqua e la portiamo a ebollizione per otto minuti, 100 gradi, velocità 1. Aggiungiamo l'orzo. E lo facciamo cuocere per 40 minuti. 100 gradi, anti-orario, velocità soft. L'orzo è cotto, scoliamolo, sciacquiamolo sotto l'acqua corrente, fredda e mettiamolo in una ciotola. A questo punto andiamo a condire con sale, il pepe, l'olio ed amalgamiamo per bene. Aggiungiamo adesso il tonno e i pomodorini ed amalgamiamo. Aggiungiamo adesso la mozzarella. Amalgamiamo. Adesso aggiungiamo un po' di basilico, tagliandolo a pezzettini. Mescoliamo per bene. Andiamo a impiattare. Insalata di orzo. Grazie e alla prossima ricetta. Grazie a tutti. Grazie a tutti.